A voi tutti amici di Agronotizie, buon weekend. Un weekend che a piccoli passi vedrà un miglioramento. Venerdì ancora qualche piovasco sulla Sardegna settentrionale, tra l'Umbra e i settori settentrionali del Lazio, le Marche, l'Abruzzo e sul nord-est. Qualche scroscio di pioggia, soprattutto su zone alpine e prealpine, anche qualche nevicata oltre 1.500-1.700 metri. Cosa accadrà invece nella giornata di sabato? Abbiamo detto generale miglioramento, un po' di nuvole al nord, per lo più innocue, qualche rovescio di pioggia nelle zone interne appenniniche, sin verso la Puglia centrale, qualche rovescio di pioggia soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma vedete altrove, tempo tutto sommato buono. Tempo tutto sommato buono anche domenica, con velature quasi dappertutto, dei rovesci di pioggia sulla Liguria e sull'arco alpino, con delle nevicate naturalmente, ma soprattutto su zone di confine. Per il momento è tutto, non ho altro da aggiungere, buon weekend da parte mia amici, arrivederci.